Sì, grazie Presidente per la parola. Allora questa mozione va un po' sulla scia della richiesta o comunque delle azioni che ha intrapreso il nostro Ministro Costa per cercare di far diminuire l'utilizzo e anche la produzione delle plastiche sul territorio italiano. Cosa ha fatto il Ministero? Ha in qualche modo obbligato il rilascio di patrocini ministeriali del Ministero dell'Ambiente previo il non utilizzo delle plastiche sugli eventi. Noi stiamo in qualche modo ripercorrendo la scia intrapresa dal Ministro Costa con una mozione che intende raggiungere questo obiettivo. Sappiamo che il problema delle plastiche è un problema evidente a tutti quanti, ormai la comunità europea si è mossa in modo diretto per arrivare poi all'eliminazione e anche alla diminuzione dell'utilizzo delle plastiche in modo chiaramente molto netto e molto evidente. Il 27 marzo 2019 ha ratificato in via definitiva la direttiva approvata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2018 per limitare l'utilizzo delle plastiche bono uso. Sappiamo che comunque l'Europa produce attualmente 25 milioni di tonnellate di plastica e sappiamo anche purtroppo che 100.000 esemplari marini muoiono ogni anno. Questo chiaramente è un dato allarmante sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici ma per quanto riguarda anche l'inquinamento ambientale che oramai è diventato veramente impattante e ha creato un allarme evidente in Europa ma non soltanto in Europa. Molti paesi, molte città, molte regioni si stanno muovendo per cercare di raggiungere obiettivi virtuosi proprio per l'eliminazione delle plastiche monouso e non. Sappiamo anche che nel gennaio 2018 l'Unione europea ha varato il piano strategico per proteggere l'ambiente dalla plastica e per favorire anche posti di lavoro. Ora Roma Capitale vuole diventare partecipe e anche protagonista di questa battaglia. In questa aula è stata presentata una delibera per rendere l'amministrazione plastic free un obiettivo importante che si intende raggiungere. Il Ministero insieme al Ministro Costa ha lanciato la sfida plastic free challenge proprio per cercare di porre degli obiettivi virtuosi sull'eliminazione della plastica dando degli indirizzi molto chiari, molto evidenti alle regioni e ai comuni per seguire l'indirizzo dato dal Ministero. Oggi noi vogliamo integrare la memoria di giunta del 23 gennaio 1995 prevedendo tra i requisiti da soddisfare per la presentazione delle richieste l'opzione essere plastic free, cioè noi rilasciamo il patrocino gratuitamente a tutti gli eventi sul territorio di Roma Capitale previo il non utilizzo delle plastiche monouso, chiaramente quelle non biodegradabili, incentivando altresì l'utilizzo di plastiche monouso biodegradabili. Oltre a questo diamo mandato al comando della polizia locale di far rispettare questo indirizzo su tutti gli eventi patrocinati da Roma Capitale per verificare la veridicità di quanto dichiarato circa la pratica plastic free adottata in occasione dell'evento stesso. perché poi ogni associazione, ogni evento prima chiaramente di organizzarlo loro dovranno compilare un apposito modulo proprio per certificare il non utilizzo della plastica monouso. Ecco questo è un traguardo importante perché chiaramente cambiando questa memoria di giunta apriamo un capitolo di grandi virtuosismo sull'ambientalismo, di grandi virtuosismo sulla sostenibilità e soprattutto sulla tutela del nostro territorio, della sostenibilità della nostra città. Perciò auspichiamo che questo indirizzo venga adottato quanto prima per cercare di dare anche noi la nostra parte come così richiesto dal Ministro Costa. Grazie Presidente.